Ciao ragazzi, eccoci qui con Ettore Ferrara Ettore Ferrara, autore di quattro reti nella terza giornata della Special Cup della partita Spartani contro Torri Azzurri, il famoso recupero Ti premiamo col collarino dei tornei SK, vediamo della terza giornata Collarino in file, questo è per te il miglior giocatore della settimana Ettore, dici due parole Stiamo migliorando di partita in partita, adesso è una partita importante Se comunque loro sono primi in classifica, sappiamo che è una bella squadra Speriamo che sia la prima cosa che ci divertiamo Che siamo stati equilibrati, anche il migliore In direzione E quattro gol per te insieme a Marco Troise Marco Troise, sì Sicuramente un bel attacco, c'è qualcosa da rivedere? Forse abbiamo forse un po' la difesa, prendiamo un po' troppi gol Anche perché abbiamo troppo spazio Anche perché comunque non recuperiamo molto Anche non 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 usciamo molto la difesa Sono un po' staccati due parti Cioè difesa, attacco, dopo migliorazione al centro campo Dobbiamo migliorare Vabbè ma soltanto tre partite su nove che dovrete giocare Ancora presto Comunque praticamente una sconfitta e due vittorie No, la prima donna che facciamo Una domanda dallo studio Ettore, ma questi spartani dove vogliono arrivare quest'anno? Speriamo che vinciamo la campionata Io voglio vincere la campionata, sinceramente Va bene Allora un augurio da mio avversario di oggi G1 capolista Saluto le telecamere Un augurio da me in bocca al lupo agli spartani Complimenti 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 Ciao ragazzi Ciao